Parigi sembra il set di un film di fantascienza. Da oggi per una settimana sfrecceranno sulla senna questi piccoli eliscafi che vedete alle mie spalle. Sembrano capsule astronavi ma sono taxi elettrici su acqua. La corrispondente Nicoletta Manzione. È la macchina del futuro. L'auto volante sfreccia sospesa sull'acqua. Si chiama Sea Bubble, un piccolo gioiello di tecnica e creatività sviluppato da una start-up per il trasporto fluviale di passeggeri. L'abitacolo assomiglia a quello di una utilitaria. C'è posto per quattro persone più il conducente e a una velocità massima di 30 km l'ora. È un'imbarcazione elettrica comandata con un computer che controlla l'altezza del volo, la rotazione laterale o verticale e anche in caso di onde o vento la capsula torna automaticamente sulla sua rotta. Ci spiega Anders Brindahl, fondatore della start-up. Per ora sono stati costruiti sei prototipi, di cui due definitivi, che potrebbero diventare operativi nel 2020 come taxi del fiume. Ci siamo ispirati all'universo dell'auto per il suo design, a quello dell'aeronautica per il suo sistema di volo e a quello nautico, ci dice Tanguy Goetz, perché è un aliscafo che vola letteralmente sull'acqua e permette di ottimizzare il consumo elettrico dell'imbarcazione. Sulla Senna è l'avanguardia di una nuova forma di mobilità sull'acqua. Non fanno rumore, non inquinano e le batterie si ricaricano ad energia solare. Forse le utilitarie del domani.